Ne vinti, ne vincitori tra l'iniziativa e la ionica che sul neutro del Gepi Faranda di Patti non vanno oltre il risultato di parità. Un 2-2 finale però che sta di beffa per l'undici di San Piero Patti che in vantaggio già nel primo tempo di due gol nella ripresa ha subito il ritorno degli avversari cinici ritrovati. La formazione di Santa Teresa Riva, agevolata nella rimonta anche da un rigore molto dubbio concesso dall'arbitro e che ha scatenato le vibranti proteste dei ragazzi di Giuttari, è riuscita prima ad accorciare le distanze proprio dagli 11 metri e poi pareggiato con il neo entrato Sterantino. Pronti via e dopo sei minuti l'iniziativa è già in vantaggio grazie a Granata che riprende una respinta della difesa ospite e da 20 metri toglie la sicura al destro fulminando Chillemi e realizzando di fatto l'1-0 per i suoi. Il gol taglia le gambe alla ionica che appena 4 minuti dopo incassa anche la rete del raddoppio. Quando Serio riprende un assist dalla bandierina di Adamo e di testa batte il portiere chiudendo virtualmente la partita. Gli ospiti pur storditi dal micidiale 1-2 dei giallorossi provano a reagire e al 29esimo tentano la fortuna prima con la forgia e poi con l'uvito ma De Francesco non si fa sorprendere. Prima di andare al riposo è ancora la ionica rendersi pericolosa con Loria che dalla lunga distanza lascia partire un forte tiro che coglie l'incrocio dei pali. Scampato il pericolo nella ripresa l'iniziativa torna a farsi sotto e tra il 55esimo e il 60esimo Serio prova per due volte a chiudere definitivamente i conti ma entrambe le conclusioni del numero 11 giallorosso non inquadrano lo specchio della porta. Così dalla possibile gol del 3-0 al 77esimo arriva invece l'episodio del calcio di rigore a favore della ionica quando il signor La Rosa giudica falloso l'intervento in area del portiere De Francesco sull'Oria assegnando alla squadra allenata da Moschella la massima punizione tra le proteste vibranti dei locali. Dagli 11 metri l'uvito batte De Francesco con l'aiuto del palo riaprendo di fatto la partita. Partita che gli ospiti mettono nuovamente in equilibrio quattro minuti più tardi con Sterrantino che raccoglie un servizio dalla destra di Lorie e con un perfetto colpo di testa batte l'estremo San Pietrino firmando così la rete del definitivo 2-2. Poi nelle battute conclusive del match la ionica potrebbe addirittura mettere a segno in contropiede anche la rete della clamorosa vittoria ma Santisi solo davanti al portiere spara incredibilmente alto sulla traversa. Finisce così con l'iniziativa che sciupa ancora una volta l'occasione di centrare la prima vittoria in campionato mentre la ionica può ritenersi più che soddisfatta per essere riuscita a riequilibrare una gara che sembrava già persa dopo appena 10 minuti.